Allora, oggi vedremo la preparazione del solfato tribase, che è un prodotto che si usa in alternativa al portiglia bordoese per il trattamento di pomodori. Quindi questo prodotto è ammesso in agricoltura biologica e ne useremo più o meno 25 ml per 6 litri d'acqua. Quindi procediamo. Grazie a tutti. Una bella mescolazione. E' una cosa nuova anche per me, non ho mai usato questa cosa qua, ma ero rimasto senza coltiglia bordolese, con carenza di prigione, questa prigione di tempo di carenza e quindi però oggi usiamo il capo da qua. la pompa si automaescola. la pompa. 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 la pompa.